Il centro della galassia. Allora, abbiamo visto questa struttura già prima, la struttura orizzontale di taglia, il nostro sistema solare a metà strada dal centro della periferia, abbiamo le bolle di raggi gamma a nord e sud e poi questa struttura delle bolle è alta praticamente quanto il diametro della galassia, più o meno 50.000 anni luce. La regione centrale è una delle più complesse e turbolente della galassia. Anche se la sua osservazione è difficile, è stato possibile constatare la densità della sua popolazione stellare, così come la presenza di un buco nero supermassiccio al suo centro. Questo è il centro galattico della galassia vista dalla Terra. Ho già spiegato prima che non lo vediamo completamente perché tra noi e il nucleo galattico c'è il braccio del Sagittario, che è questa striscia scura che non è altro che gas e polvere che ci copre il nucleo galattico che c'è dietro. Il buco nero supermassiccio centrale della Via Lattia mostra la sua presenza attraverso l'effetto gravitazionale che esercita sulle stelle che lo circondano e le emissioni di onde radio mentre assorbe grandi quantità di polvere e gas intestellare. Al momento sembra aver già consumato la maggior parte del materiale che lo circonda, infatti vi ho detto che la nostra galassia al momento non è attiva, il buco nero non sta mangiando grandi quantità e quindi non ci sono i getti di lampigamma di cui vi ho raccontato prima e che sono caratteristiche delle galassie attive. Tutte le galassie sembrano essere ancorate ad un buco nero supermassiccio, la massa del buco nero è direttamente proporzionale a quella della galassia che lo ospita, infatti pare che più è grande la galassia e più è massiccio la massa del buco nero centrale e c'è una relazione molto diretta tra le due masse. Come facciamo a sapere che c'è un buco nero qua dentro? Beh, sono state osservate le stelle al centro della galassia ed è stato visto che queste stelle orbitano molto velocemente attorno a qualcosa che non vediamo, cioè c'è un oggetto nero invisibile che però sembra essere un centro di massa molto importante per queste stelle. Andando ad analizzare la velocità delle stelle e le loro masse è stato possibile calcolare la massa dell'oggetto attorno al quale ruotano. E andando a vedere il volume che occupa e la massa che ha, e la massa la calcoliamo dalle orbite di queste stelle, vediamo che volume e densità sono compatibili con quelle di un buco nero, cioè un oggetto che ha una massa così pesante in uno spazio così piccolo deve per forza avere la densità di un buco nero, quindi è stato scoperto un buco nero. Noi non lo vediamo il buco nero, ma vediamo gli effetti che genera intorno ad esso. E poi c'è da dire che, vedremo dopo, Sagittario Sa, ovvero questo oggetto chiamato così perché sta dentro la costruzione del Sagittario, emette lampi di raggi gamma, comunque sia energie molto alte, e l'unica cosa dell'universo compatibile con questa energia sono prodotti dal disco di accrescimento di un buco nero. Questo è solamente un estratto della mia video lezione sulla Via Lattia. Nella lezione completa parlo dei bracci galattici, di che cosa sono e come si sono formati, dei getti di plasma delle galassie attive e della deformazione del piano galattico della Via Lattia, e di come questo può essere rappresentato come una gigantesca onda di marea prodotto dalle galassie vicine. Ancora parlerò degli impatti galattici e di quello che attende la Via Lattia con la galassia d'Andromeda. E poi parlerò ovviamente anche del nucleo galattico e di un gigantesco buco nero supermassiccio che si nasconde al suo interno. Potete trovare tutta la mia video lezione completa sulle Via Lattia e il corso completo di astronomia sul mio canale YouTube Prof. Antonio Loiacono. Grazie.